Alis esce dal palazzo ed entra nelle imprese, oggi primo consiglio direttivo in trasferta nella sede del centro logistica di Vurtac appena. Presentati i prossimi eventi, il 30 novembre e il primo dicembre, assemblee stati generali del trasporto e della logistica nella sede nazionale a Roma e dal 16 al 19 marzo 2022 la fiera LetExpo a Verona. La campagna italiana più veloce della media, UE e Mario Draghi al Senato, curva sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini e sui rincari dell'energia il premier assicura nuovi interventi. Dopo l'approvazione del documento programmatico di bilancio e braccio di ferro tra le forze politiche su pensioni e bonus edilizi, il premier Mario Draghi media sul reddito di cittadinanza. Il gruppo Grimaldi tra le migliori aziende in Italia per grado di soddisfazione dei propri dipendenti, al dodicesimo posto nella classifica stilata da Forbes sui migliori datori di lavoro italiani.